Nella società america l'ospitilità era indicato con il termine Xenia ed era sacro. Io, Menelao, re di Sparta, in cui Paride mi ha tolto via la moglie Elena. Io mi sono molto arrabbiato, non solo per il torto subito, ma anche perché io gli avevo dato l'ospitilità che noi greci diamo ai nostri ospiti il trattamento degno di un re, dandogli doni, cibo e tutto quello che poteva aver bisogno. Io, Paride, figlio del re di Troia, ai suoi occhi sono stato ingrato e traditore perché gli ho portato via ciò che aveva di più caro, Elena. Ci scontreremo in duello e saranno gli dei a decidere chi sarà il vincitore e chi porterà Elena a casa. Fermi, fermi! Il duello si conclude con un colpo di scena perché proprio quando Menelao sta per colpire Paride intervengo io, la dea Afrodite, che lo nasconde nella nebbia e lo salvo. Grazie a tutti.